Ultime due curve all'uscita dello sterrato, tutto a posto per Monticelli, a posto per San Martín che è il nuovo campione italiano 2020 della Supermonda. Bravo Elia, bravo Elia, campione italiano 2020, grandissimo, grandissimo, grande risultato, bella gara. Ce l'ha fatta confermare anche quest'anno il titolo italiano. Ciao, sono Elia San Martín, pilota Supermoto. In questo 2020 sono riuscito a riconformarmi il campione italiano per la seconda volta consecutiva nella massima categoria, nella classe regina, nella S1 e ho concluso nella top 5 del campionato del mondo al quinto posto. Tutti i miei risultati potete vederli e seguirmi sulle app e sul sito di Amicsircus che ringrazio di cuore gli amici e tutto lo staff per tenere aggiornati i vari fan, i vari appassionati, i miei amici. Sono qui anche per invitarvi nel primo evento digitale in assoluto per questo 2020 Idea by My Friend, sabato 7 novembre. Ci vediamo sabato.